Ciao a tutto il mondo di Milenista ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video Signori, oggi contentissimi, contentissimi, contentissimi 7 a 0, allenamento perfetto, complimenti ragazzi, allenamento perfetto Come ho messo su Instagram, tra l'altro ragazzi, prima di iniziare il video, seguitemi su Instagram Seguitemi qui su YouTube, mettete l'iscrizione, schiacciate la campanellina, mettetemi viaggio a questo video Seguitemi su Instagram dove, appunto, ho messo nel post finale della partita una frase Dopo l'11 maggio 2001, 6 a 0, c'è il 12 maggio 2021, 7 a 0, sarebbe stato perfetto 6 a 0 eh Però ci accogliamo anche del 7 a 0, comunque a parte gli scherzi ragazzi, partita perfetta Oserei dire allenamento, ma devo dire la verità, abbiamo reso noi un allenamento Perché abbiamo giocato veramente tanto bene, cioè siamo entrati con una voglia di spaccare il mondo Come abbiamo fatto contro la Juve 1 a 0, 2 a 0, abbiamo rischiato quell'unica cosa con Chanoco che fra un po' fa un suicidio assurdo Passa la palla a Zazza che per fortuna nostra si dimentica di tirare, la passa poi a, non mi ricordo chi, chi era, Bremer Non mi ricordo, comunque Donnarumma ci salva Dopo abbiamo fatto 3 a 0, 4 a 0, 5 a 0, 6 a 0, partita tranquillissima Allenamento, però, perfetto, perché l'abbiamo creato noi E diciamo che l'abbiamo portata noi la partita ad essere, diciamo, tra parentesi, tra virgolette, diciamo, tra Un allenamento, perché comunque poteva essere una partita, non dico difficile Ma comunque il torino ragazzi si deve salvare, quindi non era una partita scontata L'abbiamo risposta scontata noi, grazie alla prestazione dei ragazzi Quindi tanto contento, tanto soddisfatto e arriviamo ai voti Voti anche alti ragazzi Io di solito sopra 8 non salgo mai Ma oggi ragazzi bisogna salire, perché sennò Si crea un distacco troppo corto tra chi ha giocato veramente tanto bene e chi ha fatto una buona partita Quindi iniziamo subito Gigio Donnarumma, voto 6 e mezzo Devo dirtemente, volevo prenderli anche 7 Comunque, clean sheet, il secondo Però, devo essere sinceri, non ha fatto praticamente quasi nulla Il torino non ha praticamente quasi mai impegnato L'unica cosa che, un'unica parata importante è stata appunto su Bremers Non sbaglio ragazzi, non mi ricordo che ha tirato quel tiro lì sull'errore di Cianoglu È stato bravo a scegliere l'angolo giusto Non era una parata difficilissima, però si è fatto trovare pronto Quindi 6 e mezzo giusto L'unico voto, diciamo basso? Non so se ci sono altri 6 e mezzo, vedremo Comunque Donnarumma 6 e mezzo E arriviamo a Calabria Calabrino ragazzi, voto 7 Sfiora il gol, ragazzi, per un piedino Non segna, non fa la TD Twitch Che ha fatto una promessa ragazzi Non so se l'avete vista live di Twitch Quando è stato ospite un po' di tempo fa Aveva detto che, prossimo gol, esulto Avere la community di Twitch del Milan Non l'ha più segnato Fuori gioco, il gol annullato Però partita Attenta Non si fa praticamente mai dribblare dall'autorichez Non si fa mai mettere in difficoltà Fa il suo lavoro anche di spinta Quando è chiamato a farlo Bella partita, 7 E 7 lo prendono anche Tomori Chier, ragazzi, li metto in coppia Vorrei così accorciamo un pochino Che sennò ci metteranno 10 anni Chier e Tomori prendono 7 Partita tranquilla Attenti La prima parte di gara Quando c'è stato qualche cross in più Che eravamo ancora sull'1-0 Così Sono stati abbastanza attenti Ordinati Chier, il solito leader Tomori Quello che pressa un po' di più Quello un po' più aggressivo Si completano Da Dio 7 per loro due Come al solito Bella prestazione anche quest'oggi Bravi ragazzi E arriviamo a lui I signori Treno Hernández Ciuf 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 Allontanarsi dalla linea gialla Non ferma Da nessuna parte Anche oggi Destinazione Faccio il culo a una squadra di Torino La seconda squadra La prima squadra di Torino Vabbè Non mi cambia anche azzo Perfetto Perfetto ragazzi C'è cazzo da dire 9 9 Fa un Due gol splendidi Due gol splendidi Potevo darle anche 8 Perché comunque non è una doppietta Che prende il 9 Prende il 9 ragazzi Perché fa Partita attentissima in difesa Non è che abbia avuto chissà che difficoltà Però è stato attento anche in difesa In più ha fatto un gol Il primo ragazzi Un missile terraria assurdo Il secondo Il secondo personale Parte da Praticamente la difesa Si fa tutto il campo A una velocità impressionante E ha pure la lucidità di Stocchettino sotto su Sirico Doppietta 9 9 ragazzi Pareta perfetta Bravo Teno Mamma mia Meno male che ragazzi Teno Madonna Oh Covid Ok Sono vivo Sono vivo Volevo dire meno male che Teo Hernandez Era in calo E continuiamo con Ismael Benasservo 6 e mezzo Io Benasservo 6 e mezzo Peccato per il giallo che ha preso Ha preso il giallo Anche in questa partita Come contro il Benevento Se non sbaglio Stato cambiato per non rischiare il giallo Dopo parliamo anche di me Partita tranquilla Ragazzi Non ha fatto nulla di Così speciale Come al solito Fa il suo Bel lavoro Sia in fase di impostazione Che in fase di ripiego L'unica cosa è che si è preso un giallo Che poteva evitare Sta tornando a prendere un po' troppi gialli Ismael Comunque dai La scorsa volta dei ragazzi È stato fantastico Quindi Oggi Un po' un pelino meno 6 e mezzo Però bene anche oggi Insomma Nessuna insufficienza Appunto E arriviamo a lui MVP 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 insieme a Teo Sceglietelo voi nei commenti L'NVP Ragazzi Io non voglio Non voglio Sinceramente sono in 3 Per me sono entrambi Anzi Potrebbero essere anche in 3 oggi Però di color 2 su tutti Frank che si Frank Thanos che si Altro che presidente Che durante la partita Dani e cosa Hanno ricordato Presidente Non si chiama Però non è presidente Frank Thanos che si Ineluttabile Votto 9 anche lui Partita Cosa li vuoi dire Perfetta Ovunque C'è da difendere È il primo difensore C'è da rubare il palaccio del campo È il primo che la ruba C'è da attaccare Segnare E segna Ha segnato 11 gol Lascia stare che segna il suo rigore Si è mangiato Si è mangiato un gol Che praticamente era una toppietta Assist È fatta la partita perfetta 9 Ovunque Impressionante È un giocatore Veramente Il più forte Centrocampista della Serie A Senza alcun dubbio Di stacco proprio Devastante Devastante E arriviamo a lui Il mio amico Samu Gazzieco Voto 6 Ragazzi Non riesce a segnare Neanche oggi Che abbiamo vinto 7 a 0 Ha giocato tutti i 90 minuti Non è riuscito a fare Né un assist Né un gol Si è mangiato il gol A porta di mio preso palo Il rigore Per fortuna si procura quel rigore Prende 6 perché si procura quel rigore Ma quel rigore praticamente lui doveva segnare prima Ha stoppato Ha tirato dopo Ha fatto lo stop E dopo 50 secondi Ha deciso di tirare Vallo a capire Per il resto ragazzi Come al solito Tanta voglia Tanta volontà Ma poca qualità C'è poco da dire ragazzi Né un giocatore da mina Ma questo lo sappiamo già Quindi andiamo avanti Perché c'è poco da dire su Samu Mi dispiace Ma non è un giocatore da mina Voto 6 E arriviamo ad Cancelanoglu Mi hai fatto cagare sotto C'è la no Mi hai fatto cagare sotto Mocca Chi te è vivo Mi hai fatto veramente cagare sotto Con quel pallone a Zaz E meno male Ragazzi quello è un errore grave Cioè quello bisogna ringraziare Vabbè Zazza Che non si sa che cazzo Gli ha preso al cervello Perché non ha tirato Perché quello è un errore grave ragazzi È un errore grave Che ci poteva costare caro Canoglu Per quell'errore Prende 6 e mezzo Sinceramente Poteva essere 7 Con quell'errore Arriva 6 e mezzo Poteva anche essere 6 Con l'errore che fa Do 6 e mezzo Perché dopo si è comunque ripreso Begli scambi con Diaz Non si è visto come gli altri Però ha fatto una buona prestazione ragazzi Non ha giocato male Peccato per quell'errorino 6 e mezzo Fai attenzione Perché mi ha fatto cagare sotto Questo è un problema E arriviamo a lui signori Ibrahim Diaz Il mio follettino Il mio popillo Voto 8 e mezzo Mezzo punto in meno Perché voglio dare l'NVP tra Teo E che si Mezzo voto in meno Gol bello Bella l'azione Bella assist E partita da destra Se va tutto campo E partita da Teo Hernandez Che fa un gol Micidiale Come abbiamo già detto Per il resto partito ragazzi Da Abraim Cioè Abraim ragazzi Punta l'uomo E fa quel cazzo che gli pare C'è un giocatore Un giocatore devastante C'è poco da dire Il riscatto deve essere fatto subito Ragazzi Io spero che il Real Non esageli Spero che metta Non so Un prestito Con estendibile Il prestito estendibile Appunto un anno Con un diritto di riscatto Speriamo ci metta qualcosa ragazzi Che io Un giocatore che voglio assolutamente Ripeto quello che ho detto Mesi mesi fa Quando nessuno mi dava letta Ragazzi Se Pep Guardiola Si esprime su un giocatore Non dobbiamo Non dobbiamo dire Ah A parte che si vede già Che è un gran giocatore Non c'è bisogno di Pep Ma è Se lo dice un giocatore Un allenatore del genere ragazzi Ma di cosa stiamo parlando Ma di cosa stiamo parlando Comunque Voto 8 e mezzo Gran partita Bravo Brahim Ante Rebic Voto 8 Non voglio dargli lo stesso voto di Brahim Perché secondo me La prestazione di Brahim È stata completa Cioè ha fatto veramente Una prestazione su Tutto il tempo che è stato in campo Anche Teo Anche che si Veramente completa E tanta roba Rebic ragazzi Fino al primo gol che ha fatto Praticamente era invisibile Ha fatto l'assist per Teo E ha fatto tripletta però dopo Quindi l'8 Lo devi dare per forza Cioè per la tripletta Minimo gli devi dare 8 Diciamo che ci potrebbe essere anche il 9 Potrebbe essere MVP Della partita Perché tripletta E assist Però diciamo che si è visto molto poco Ho fatto praticamente 3 gol a porta libera Quindi ragazzi Secondo me L'8 ci sta tutto 8 ragazzi 8 Stavo ripensando ma secondo me è 8 Giusto l'8 Ditemelo nei commenti comunque Il vostro voto Però secondo me è 8 È più giusto Perché appunto Vai poi a Secondo me Devi aumentare poi i voti di Brahim Di Teo e di Chessica Hanno veramente fatto una prestazione devastante Perché qua ragazzi Non si parla solo del gol Dell'assist Ma poi della prestazione in sé Quindi 8 Ragazzi arriviamo ai subentrati Da lot Voto 6 e mezzo Do un 6 e mezzo Perché è entrato Praticamente partita quasi finita Comunque è entrato con una voglia La voglia giusta La voglia di provare a incidere anche lui Ha fatto un gran Ha dato un gran pallone Sulla testa di Krunic Che poi è arrivato al gol A punto di Rebic Secondo me è un 6 e mezzo Che ci sta tutto Mi sta sorprendendo il gioco Perché Sembra che ci stia mettendo Un impegno in più Quella attenzione in più Quella voglia in più Chi lo sa Ma è già Già lo scorso video Due video fa O lo scorso Non mi ricordo Che ho detto Chi lo sa il riscatto vedremo Vedremo il Manchester Cosa dirà Però Da lot Sono contento del fatto Che comunque entra E ci mette impegno Quindi bravo da lot Voto 6 e mezzo E arriviamo ad un altro subentrato Che però ha fatto 45 minuti Solo me te Signori Me te è entrato E ha detto Cazzo Gioco con la mia ex squadra Vedremo se l'ex squadra Vedremo se lo riscatteremo E niente Voglio fare il culatolino E l'ha fatto ragazzi 6 e mezzo Non di più Non è che abbia fatto Chissà che cosa Però Cazzo Veramente Veramente cattivo Ha sbagliato veramente Pochissimo Come tra l'altro Tutta la squadra Cevolato Sicuramente dal risultato Da un Torino Che praticamente Era lo sbando Però Cattiveria Giusto impegno Bravo Mette Voto 6 e mezzo E arriviamo a Rade Krunic Fa entrare Rade Oh no Su 7 a 0 Non l'ho dito Parte scherzi Entra Rade Krunic E come al solito Fa il suo lavoro E oggi fa anche qualcosa in più Fa 2 assist Signori Oggi voto Krunic 7 Non davo secondo me 7 a Krunic O più di 7 Da Verona a Milan Quando ha segnato quel gol Su punizione Quindi bravo Krunic Entra Fa 2 assist Che li vuoi di? Bravo Rade 7 Giustissimo 2 assist ragazzi Il minimo è dare 7 Poi è entrato Ho fatto diciamo 20 minuti Quindi non ha fatto Praticamente nulla Però 2 assist Solito impegno Solita voglia Bravo Rade Come ho detto 7 E finiamo questa Pazza pagella Non ho mai dato 9 ragazzi Sono contento di darlo Proprio oggi Proprio alla fine Di questo campionato Signor Leao Voto 6 e mezzo Anche lui è entrato Ha fatto l'assist Si è fatto vedere bene In profondità Potrei dargli anche 7 ragazzi Però Oltre Oltre all'assist Non ha fatto praticamente Nient'altro Quindi Mi sembra giusto dare 6 e mezzo Ho dato mezzo Impento in più Ogni assist Stai subentrati Quindi Cronici L'ha fatto i due Dato 7 Leao mi sembra giusto Dargli 6 e mezzo Detto questo Ragazzi Vi saluto Ci sentiamo appunto Al prossimo video Vi ricordo Come sempre Di iscrivervi al mio canale Su tutti i social Ragazzi Non vi ripeto Sempre le stesse cose Mettete mi piace al video Se vi è piaciuto Ma come sempre La cosa più importante Che vi ricordo sempre Vivo solo per te Io non ti lascerò Sempre con te sarò E non gli importa se Io finirò nei guai Unico amore è se Ma come sempre Unico amore Kanal Pat Produ italiano Corate Una famiglia è stata Abbiamo richiesta E non gliaffles ò